Educare divertendo si può ed è proprio questo l'obiettivo del nuovo sito bilingue GITI in italiano solletico nato dalla collaborazione tra l'Arlef, l'Agenzia Regionale per la Lingua Friulana ed Ensu, l'azienda udinese specializzata in siti internet. Il progetto che prevede sul portale www.giti.it la creazione di pagine social dedicate ai più piccoli è stato pensato con una particolare attenzione di inclusione e accessibilità destinato ai bambini tra i 3 e i 10 anni per imparare la lingua friulana, la marilengue ma anche a coloro che non la parlano per iniziare ad avvicinarsi. L'iniziativa è stata presentata ieri.